Si allarga la rete degli sgambatoi cittadini a Pesaro. Praticamente ogni quartiere ne ha uno. Il centro storico sotto questo punto di vista era un po' latitante. Centro che ha tanti cani, tanti possessori di animali domestici e pochi spazi a loro dedicati. Spazi che a volte venivano utilizzati in maniera impropria, come quella del fossato di Rocca Costanza. E allora ecco dunque inaugurato oggi questo nuovo sgambatoio a cavallo tra stazione ferroviaria e ospedale San Salvatore. In realtà uno sgambatoio qua c'era già, era uno sgambatoio piccolo, però serviva uno spazio nuovo per dare la possibilità anche ai cani sia di piccola taglia che di grande taglia di poter avere uno spazio a tutto loro. E' una zona questa dove portare persone serve, avere una frequentazione viva, vivace, aiuta a tenere anche più, diciamo, meglio questo posto. E quindi con uno spirito di comunità anche che caratterizza spesso i padroni dei cani o comunque chi frequenta gli sgambatoi è una risposta importante per il quartiere. Un intervento complessivamente da più di 20.000 euro che ci ha consentito appunto di andare a sistemare quest'area, realizzare una bella recinzione. andare a posizionare due nuove panchine e tutto quello che serve per avere uno spazio funzionale per gli animali.